Sono reduce da una meravigliosa cena che ho fatto a Santa Marinella, un posto che si chiama lievito e birra, in realtà non è un posto qualsiasi, è un luogo deputato, un luogo dell'anima in quanto gestito, anzi è di proprietà di Fabio, Manuela e dei suoi figli, insomma gestiscono questo posto dove si mangia un'ottima pizza e del pesce fresco pescato lì, proprio in quei mari proprio lì di fronte, c'è Simona che deve intervenire perché non ce la fa, hanno detto il venire. Lei chi è? Scusi, che vuol dire lei? Chi è lei? Chi è lei? Come si chiama? Sei scema. Lei è Ricchi Tognazzi veramente? Esatto, sta delirando. Se tu non dici che sei Ricchi Tognazzi certo tutti ti riconosceranno, però è meglio. Ricchi Tognazzi, regista, in carne e soprattutto ossa poche, poche ossa, oltre carne, poche ossa. Come la moglie. Anche tu poche ossa. Ciao Fabio, ciao. Ciao amore mio, non ha Fabio, non ha nemmeno la moglie, a te lo dicevo, ciao ciao. Ciao Edoardo e Valerio, complimenti per questo luogo bellissimo, noi siamo in un altro proprio amore mio, siamo in Sicilia, vi diamo un bacio. Ci vediamo appena torniamo. Ciao. Mievi tre birra, ciao, un abbraccio proprio. Infatti ci vado da solo. Che carino. Se vengo liberato, festeggiamo l'11 settembre, è una data funesta, però è la nuova data della liberazione. Di Ricchi Tognazzi. Ricchi Tognazzi è liberato dalla Izzo. Ah poverino. bellissimo. Ciao Fabio, ciao a tutti. Ciao. Ciao.